Per la prima volta in televisione vi mostriamo la schedina del Toto Nero che è tuttora in funzione e che riguarda le partite di domenica prossima. Breve spiegazione, 1 è la vittoria della squadra che gioca in casa, se il Como vince ve lo pagano 2,5, X è il pareggio, 2 è la vittoria della squadra ospite e in questo caso ve la pagano a 1,25. La vittoria dell'Ascoli sull'Inter, l'eventualità più clamorosa è data a 12, mentre se l'Inter batte l'Ascoli vi danno solo 300 lire su ogni mille giocate. Ci sono delle circostanze ancora più curiose, questo è il titolo del giornale nuovo di venerdì 10 maggio, cioè due giorni prima che si disputassero le partite in questione. Dai bookmakers candestini era già stato previsto non solo il pareggio di Atalanta Verona e Avellino Como, ma davano già il risultato di 1 a 1. Qualità divinatorie o c'è ancora qualcosa che non funziona o funziona troppo.